Amici e amici di Rossini TV, eccoci qua dal salotto di Fisioradi Medical Center. Checkup Obiettivo Salute, terza stagione, per la seconda volta ospite il dottor Andrea Buccarini. Buonasera dottor. Buonasera. Il dottor Andrea Buccarini, biologo nutrizionista, laureato nel 2016, giovanissimo, ma già con tante esperienze, con tante storie da raccontare, vedremo poi le svilupperemo nel corso dell'intervista, vogliamo affrontare con lui un tema particolarmente interessante perché riguarda veramente la stragrande maggioranza della popolazione, il colon irritabile. Che cos'è dottore la sindrome del colon irritabile? Allora il colon irritabile è una condizione che caratterizza il 10% della popolazione italiana con dei sintomi molto invalidanti che possono ridurre fortemente la qualità della vita delle persone, ad esempio gonfiori, dolori addominali, flautolenza o anche alterazioni del transito intestinale con diarrea e costipazione. La dieta Foodmap è una dieta ideata nel 2005 da due studiosi dell'Università di Melbourne in Australia e si è mostrata molto efficace nel ridurre i sintomi legati al colon irritabile. La fisiologia che c'è dietro la genesi dei problemi del colon irritabile è semplicemente la distensione del lume intestinale che provoca gonfiori e alterazioni del transito intestinale con diarrea e costipazione. I problemi maggiori si verificano nella porzione terminale dell'intestino tenue e nella porzione ascendente dell'intestino crasso. I materiali che possono provocare i maggiori fastidi sono i solidi come le fibre, ma anche i liquidi che sono sottoposti a fenomeni di osmonità e di assorbimento, ma anche i gas intestinali dovuti alla fermentazione dei batteri. Mentre tra i cibi che possono provocare i maggiori fastidi sono quindi ricchi di Foodmap. Prima di chiedere cosa sono i Foodmap, una domanda che mi è venuta così istintiva. Al di là degli aspetti macroscopici che ha illustrato, ci sono dei sintomi che ci possono far dire c'è una sindrome da colon irritabile, anche se magari non ho queste evidenze così importanti? No, è una malattia molto subdola, quindi ci possono essere dei piccoli sintomi, un insieme di questi sintomi, uno solo, è una malattia un po' da difficile da diagnosticare e in alcuni casi non c'è neanche una causa vera e propria specifica, ma c'è solamente una di disturbi gastrointestinali in cui non si riesce a capire che cosa c'è. Qual è la genesi? Qual è la genesi? Torniamo indietro, Foodmap, cosa sono i Foodmap? I Foodmap sono semplicemente degli zuccheri con effetto fermentabile, in questa categoria rientrano il fruttosio, il lattosio, ma anche i fruttani, i galattani e i polioli che comprendono l'oxilitolo, il sorbitolo e il manitolo. Queste sostanze hanno tre caratteristiche in comune, sono sostanze molto piccole che non vengono assorbite nell'intestino tenue, richiamano acqua nell'umino intestinale e vengono fermentate da parte dei batteri con produzione di gas intestinale. Si è visto che tutte le sostanze classificate come Foodmap condividono queste tre caratteristiche in comune e addirittura nel caso dei polioli si è addirittura reso necessario indicare in etichetta il loro possibile effetto lassativo dovuto a un consumo eccessivo. E diciamo che questi Foodmap entrando nel dettaglio possiamo dire che il fruttosio per esempio è uno zucchero che ritroviamo tranquillamente nella frutta, nel miele, lo possiamo ritrovare sia libero e sia legato al glucosio per formare il saccarosio, il comune zucchero da cucina, e mentre lo possiamo anche ritrovare sotto forma di sciroppo aggiunto nei cibi industriali, nei dolci, nelle bibite. Il fruttosio, scusami, il lattosio invece è un disaccaride presente nel latte di tutti i mammiferi e la sua digestione dipende da un enzima. La presenza in questo enzima può essere persa durante la crescita, quindi solamente una percentuale della popolazione che dipende dalla zona geografica mantiene l'enzima e quindi la capacità di digerire il latte in età adulta. Mentre i fruttani sono degli zuccheri, piccole molecole di fruttosio presenti in alcuni cereali come grano, orzo, farro e segale, li troviamo anche nella banana o anche in alcune verdure come l'aglio, la cipolla o i carciofi, i funghi e questi non vengono digeriti dall'intestino e fermentano con produzione di gas. Mentre i galattani invece sono delle sostanze, degli zuccheri presenti nei legumi che sono comunque alla base di tutte le alimentazioni vegane e vegetariane, ma sono presenti anche in molte cucine etniche e anche questi non vengono digeriti e vengono fermentati con produzione di gas nelle persone che hanno sindrome del colon irritabile. Come ultimo i polioli che sono dei dolcificanti ipocalorici aggiunti nelle caramelle eccetera, anche questi vengono fermentati da parte dei batteri intestinali con produzione di gas. Per esempio il manitolo lo ritroviamo nella frutta e anche nei funghi, mentre il sorbitolo nella frutta. Quindi viene automatico pensare che per combattere la sindrome da colon irritabile sia meglio assumerne pochi di Foodmap e già ce l'ha detto perché è entrato nel merito degli alimenti ma ci saranno anche delle diete specifiche. Esatto, c'è una dieta a basso quantità di Foodmap, proprio chiamata così, questa dieta consiste nella forte riduzione di tutti gli alimenti contenenti Foodmap e questa riduzione viene fatta per un periodo determinato e dovrebbe consentire una riduzione dei disturbi della sindrome del colon irritabile o comunque un miglioramento della sintomatologia generale dell'apparato gastrointestinale. E' una dieta che praticamente può essere complicata in quanto non sempre si riescono a capire i quantitativi di Foodmap all'interno di un singolo alimento, non sempre ci sono disponibili tabelle specifiche, ma può essere difficoltosa anche perché non è il quantitativo di Foodmap di un singolo alimento a creare problemi, ma il quantitativo di Foodmap di un intero pasto e questa dieta consiste in tre punti principali che sono l'eliminazione, quindi come abbiamo detto prima la forte riduzione di tutti gli alimenti contenenti Foodmap, anche se un'eliminazione completa non è mai possibile ottenerla, per un periodo che va dalle 3 alle 6 settimane. In questo periodo i sintomi del sindrome del colon irritabile dovrebbero regredire. Poi abbiamo la fase di reintroduzione in cui i cibi tolti precedentemente vengono riaggiunti in alimentazione, facendo attenzione comunque al tipo, alla frequenza e alla dose con cui vengono consumati certi cibi. E' una fase complessa e lunga, ma serve per evitare esclusioni ingiustificate di determinati alimenti. Come ultimo abbiamo la fase di mantenimento in cui sulla base dei dati ottenuti dalla fase precedente si lavora per ottenere una dieta il più possibile varia ed equilibrata, sempre facendo attenzione comunque al tipo, alla quantità e alla frequenza di alimento consumato. Non si tratta di una dieta alla moda, deve essere fatta secondo le indicazioni di un professionista che abbia confidenza con questo tipo di dieta, in modo che possa fornire al paziente una lista di alimenti da consumare liberamente, una lista di alimenti da evitare completamente e una lista di alimenti da consumare con moderazione. Tutto questo per evitare esclusioni ingiustificate di alimenti. Allo stesso modo, visto che è il quantitativo totale di Foodmap a creare problemi, bisogna fare una particolare attenzione a tutti i cibi utilizzati e se non ci sono effetti positivi dopo questo tipo di dieta bisognerà valutare la bontà dell'aderenza alla dieta ma anche l'utilizzo di sostanze concomitanti che possono provocare ugualmente fastidi come fibra ma anche cellulosa o additivi chimici che possono provocare comunque disturbi gastrointestinali. La dieta Foodmap ha mostrato circa un 75%, cioè le persone che utilizzano questo tipo di dieta hanno mostrato nel 75% dei casi degli effetti positivi e una riduzione della sintomatologia e si è visto che c'è addirittura un aumento della dose tollerabile dopo la fase di reintroduzione. Non è una dieta alla moda, va utilizzata solamente in caso di diagnosi del sindrome del colon irritabile ma recenti studi hanno dimostrato che può essere utilizzata anche in tutti quei casi in cui ci sono dei sintomi gastrointestinali ma non si riesce a capire la causa scatenante. Un'altra cosa da dire dottore, credo che sia il fatto che la miglior cura su noi stessi la facciamo tutti i giorni con il cibo e con quello che introduciamo nel nostro organismo piuttosto magari che con farmaci antisintomatici che lì per lì agiscono ma non risolvono assolutamente il problema. Ha fatto già un lungo elenco, l'ha anche ribadito, di cibi che possono essere portatori di Foodmap ma ce ne sono alcuni in particolare che ne sono proprio ricchissimi e che quindi chi soffre di questa sindrome dovrebbe fare a meno? Esatto, per esempio tra la frutta ritroviamo la pesca, le pesche, le albicocche, le susine Ma ci vuol togliere la frutta più buona? Purtroppo in questi casi per un periodo ristretto dobbiamo fare a meno se ne soffriamo ma anche i succhi di frutta Le ciliegie dottore, siamo quasi in stagione Anche le ciliese, cioè tutte le frutte contenenti un nocciolo Ma anche la frutta essiccata per esempio le prugne secche o albicocche secche o pesche secche Tra la verdura ritroviamo l'aglio, la cipolla, gli asparagi ma anche i funghi e le verdure brassicacee come cavoli e i cavoletti di Bruxelles Tra i cereali troviamo il grano, l'orzo, il farro e la segale Quindi un cereale permesso potrebbe essere il riso Mentre tra i latticini troviamo il latte Il latte condensato, i gelati e i yogurt Tra i legumi i piselli e i fagioli Tra i dolcificanti il miele, lo sciroppo di glucosio di fruttosio e i polioli Quindi dolcificanti ipocalorici Ok, quindi togliamoci tutte le cose più buone Per quando soffriamo di sindrome di colon irritabile Purtroppo la realtà è questa Dottore, il nutrizionista come lei si occupa di questioni Basate sulla patologia in determinate situazioni Di risistemare Però in realtà il nutrizionista dovrebbe fare con i suoi pazienti Un lavoro proprio quotidiano sui consigli Per farli stare nella maniera migliore possibile Attraverso l'alimentazione ma non solo Esatto, diciamo che i tre punti fondamentali Su cui dovrebbe agire un professionista Sono l'alimentazione appunto Ma anche l'allenamento e una certa attitudine mentale Quindi magari invogliare, spronare il paziente Trovare anche insieme degli obiettivi Che possono essere Mi è capitato anche questa mattina Entrare in un vestito di un matrimonio Che ci sarà a giugno Questo può essere un obiettivo Per proseguire una dieta Per impegnarsi a lavorare duro E avere ovviere risultati Dottore, se non ci si riesce non ci si sposa? No, però no, non è sempre vero Però bisognerebbe insomma tentare di riuscirci A parte la battuta Il dottor Buccarini ha un passato L'abbiamo detto, è giovanissimo Ma quando era ancora più giovane Era un amante del ciclismo Quindi ovviamente la parte dell'allenamento La mette in pratica Ma anche quello della nutrizione Dell'attitudine mentale senza dubbio Grande appassionato di ciclismo Non possiamo dire qual è la squadra Nella quale il dottor Buccarini Lavorerà i prossimi mesi Perché non si può dire Però possiamo dire che Fra maggio e settembre Cioè i mesi in cui si svolgeranno I tre grandi tour ciclistici Che sono il Giro d'Italia Il Tour de France e la Vuelta Pensate, lui sarà fuori Si può dire per tre mesi Esatto, sì Lavoro da quest'anno Con una squadra di ciclismo World Tour Una squadra che fino a pochi anni fa Era al vertice del ciclismo mondiale Ma adesso con gli arrivi di Pogacar Vinegart ci siamo un pochino Messi un pochino da una parte Però rimane comunque Sempre un'ottima realtà Mi dà la possibilità di viaggiare tanto Conoscere persone nuove Lingue nuove Culture diverse Anche a scambiarsi opinioni diversi Su integratori Alimentazione eccetera E sì Sarò fuori Per il Giro d'Italia Tour de France e Vuelta di Spagna Dovrò seguire gli atleti A 360 gradi Sia in corsa Sia fuori corsa Con delle strategie nutrizionali Sai Gel Barrette Quando prenderli Quando non prenderli Ma quindi avendo detto Che lo fa in corsa Sale sulla bicicletta E sta vicino ai ciclisti Dandogli no Mentre fanno il passo dello Stelvio Oppure no Sono in ammiraglia E sono Dai come supporto In ammiraglia A spronare comunque i ragazzi A intervenire in caso di bisogno Il ciclismo è uno sport durissimo Dottore Io mi chiedo Come fanno questi È vero che Cioè Lo sportivo professionista È un superuomo Che vive una vita a parte Ma come fanno Questi ciclisti Ad affrontare 21 giorni Nei quali devono percorrere 3-4 mila chilometri Di cui mille in salita Eh sì Ci si arriva Piano piano Sono atleti Diciamo scelti Da madre natura Che fanno questo sport Da quando avevano 10-12 anni È logico È impensabile Per una persona sedentaria Mettersi a fare Un giro di taglia Ma per questi ragazzi È una normalità Hanno sempre fatto Gare a tappe Piccole gare a tappe Di una settimana 10 giorni Due settimane Due settimane Farla di tre Non è un problema È un po' come fare Gli slam nel tennis Che sono quattro Si giocano a cinque set Un'ultima cosa Dottore Sempre sull'aspetto Del ciclismo Quest'anno Il Tour de France Farà tre tappe In Italia Con arrivo a Rimini Bologna E Torino È davvero Uno spettacolo Straordinario Per l'evento sportivo Più seguito al mondo Pensate Dopo i mondiali di calcio E le olimpiadi Non prova una particolare Emozione a vivere Questi tre giorni In Italia Al seguito Della maglia gialla Sì Non è mai successo Nella storia Del Tour de France Che partisse in Italia Quindi faccio un appello Venite tutti a vedere In Romagna L'arrivo L'arrivo E la partenza di tappa Certo Considerate che Parliamo del 29 E del 30 giugno E sicuramente ci saremo Dottor Buccarini Grazie anche per questa Finestra sullo sport Grazie a voi Grazie tanto E per essere stati con noi Anche quest'anno Grazie a voi Per averci seguito Vi invitiamo Come sempre A restare su uno sito di tv Ci vediamo La settimana prossima Buona serata A tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti